Taglia le prefetture, la battaglia messa in campo in Abruzzo contro la fusione di Chieti e Teramo, che secondo i dettami del governo dovrebbero essere unite, la prima con quella di Pescara e la seconda invece con quella di L'Aquila, sembra dare qualche segnale positivo. C'è più di una speranza che quella che ci ha dato il ministro degli interni direttamente, che ha visto protagonisti anche i parlamentari abruzzesi, che hanno fatto pressioni sul ministero perché questa norma contenuta nella bozza di DPR presentata possa non vedere la luce. Perché? Perché è fortemente lesiva per l'intero territorio abruzzese la scelta di chiudere due delle quattro prefetture perché non sono certamente le due prefetture abruzzese a risolvere il problema di risparmio della spesa pubblica e perché comunque lo Stato così facendo abbandonerebbe fette importanti del proprio territorio. Oggi abbiamo un dato in più. Sembra esserci, io ho avuto questa notizia direttamente nel pomeriggio dal ministero, sembra esserci una buona possibilità affinché il decreto possa non vedere la luce durante questo anno e neppure il prossimo perché in legge di stabilità dovrebbe esserci un emendamento che rinvia il procedimento avviato dal ministero sulla scorta di una legge voluta da Monti che è quella di soppressione delle prefetture. Se così fosse, ovviamente avremmo scampato per il momento il pericolo. Questo non vuol dire che non dobbiamo parlare di tagli di uffici o di revisione della presenza degli uffici per i felici dello Stato sul territorio nazionale, ma bisogna parlarne tenendo conto di quello che capita, che succede, valutando e facendo un'analisi approfondita di quali sono gli effetti, le conseguenze sul territorio dell'eventuale taglio di alcune strutture pubbliche.